L'Ottocento è stato definito il secolo sciocco proprio a causa di tutta questa fede cieca nel progresso. Però tanto sciocco non lo è stato, nel senso che i limiti si vedevano già bene, cioè sicuramente appunto Gino Capponi li vedeva meno bene che Giacomo Leopardi. Leopardi non è antiprogressista nel senso che non è Monaldo, cioè Monaldo era davvero un conservatore, un sanfedista, eccetera, lui no. Non c'è una presa di stanza dalla scienza, da quella scienza che vuol solo approfittare dei portati utilitaristici e non vuol approfondire la ricerca. Quello che lui non sopportava erano le fantasie progressiste, il progressismo fatto a basso costo. Per esempio, quando nella Paglionodia Marchese Gino Capponi comincia a dire sì sì adesso andrà bene tutto quanto, figurati, mi sono sbagliato, hai ragione, ci sarà un progresso fantastico e comincia a dire che ci saranno i pini che suderanno il latte e dei nuovi paioli orneranno le nostre cucine, che poi appunto è una specie di profezia del consumismo, eccetera, devi dire guarda questo non è il progresso, ammesso e non concesso che un progresso di questo genere si realizzi. Leopardi non è contro il progresso in assoluto, no? È contro la ipertrofia di una fiducia sterminata nella tecnologia e nel progresso tecnologico senza un senso critico. Leopardi non può essere d'accordo con i suoi contemporanei che pensano che comunque la storia dell'umanità è una storia di magnifiche sorti progressive. Nel futuro ci sarà sicuramente un miglioramento rispetto al passato, ma nessuno lo dice. Ma non possiamo neanche dire che Leopardi è un reazionario contro il progresso, assolutamente no. Leopardi ha la fondazione del suo sapere, il fondamento del suo sapere è un fondamento scientifico. Leopardi non può essere contro il progresso, ma è contro l'ipertrofia di una tecnologia dissennata che non tiene conto delle risorse reali. In questo senso Leopardi addirittura è stato considerato come un antesignano delle posizioni dei verdi. C'è una consapevolezza dei rischi che sono insiti all'interno di ogni come dire passo che si fa in avanti, poi si fa in avanti. Noi dobbiamo avere il senso critico che ci aiuta a discernere la qualità oltre che la quantità. Egli intravede che l'uomo nel momento stesso in cui ha cominciato a trattare la natura come oggetto, a trasformarla come elemento di tecnica, quindi a porsi di fronte alla natura appropriandosene e intendendo vanamente distruggerla, nel momento stesso in cui insomma si dimentica della domanda sulla fragilità della propria esistenza, si produce un destino che è irreversibile. E il destino è quello del nichilismo, cioè della scoperta che dietro alle cose c'è il nulla, che ci attende il nulla, la finitezza dell'uomo. L'uomo nel momento in cui fonda la sua esistenza sulla tecnica non pensa più alla sua finitezza. Ora per Leopardi la finitezza, la consapevolezza dell'essere finito è un tratto che contraddistingue la grandezza umana.